Ecco qua, buonasera a tutti quanti, benvenuti anche da parte mia, se mi sentite tutti quanti bene, se ok, non c'è nessun problema, perfetto, direi di iniziare subito a parlare di due prodotti a batteria, BHC18 e TID18, il tassellatore e l'avvitatore ad impulsi, un'accoppiata che ci permette di forare tutto quanto quello che è materiale edile e di andare poi ad avvitare sia su legno che direttamente su cemento con turboviti e quant'altro. Vediamo un po' di caratteristiche, hanno ovviamente tutte e due le stesse possibilità di batterie, quindi potremo andare a montarli tutto quanto il sistema a 18 volt, il tassellatore è pensato per essere il più leggero possibile, quindi andare a lavorare al meglio in orizzontale o sopra testa, essere il più compatto possibile, in questo modo riusciremo ad andare a lavorare anche in tutti quei posti scomodi e difficili da raggiungere, tutto quanto ammortizzato, non so se si vede, magari mi avvicino un po', tutto quanto ammortizzato, quindi qua davanti abbiamo il motore e la cassa per la percussione elettropneumatica e non è connessa direttamente al manico ma agli ammortizzatori, in questo modo quando andremo a lavorare non solo assorbiremo meno vibrazioni ma saremo anche proprio più veloci a forare perché andremo a scaricare tutte quante le vibrazioni in punta. Quindi andremo a creare una pressione che permette al tassellatore di rimandare indietro tutte quante le vibrazioni, verranno scaricate tutte quante in punta e noi saremo molto comodi ad andare a forare. Avremo sempre comunque la possibilità di escludere la percussione per tutte quante quelle forature dove il materiale edile come può essere appunto il mattone forato è troppo delicato oppure avremo bisogno di accessori, quindi di punte che non sono SDS, quindi non sono resistenti agli impatti, quindi dovremo andare ovviamente a forare con un mandrino autoserrante. TID 18 come detto può montare le stesse punte, quindi una volta forato magari messo il tassello con TID 18 possiamo andare ad avvitare tutte quante le viti. Alla base abbiamo il selettore delle velocità, quindi anche delle potenze, tre livelli di velocità, al massimo TID 18 sviluppa 180 Nm per 3200 giri al minuto e ci permetterà quindi di andare a lavorare con le diverse velocità da viti molto molto piccole autoforanti come le viti text fino a viti per carpenteria leggera. Tra le altre cose che abbiamo a disposizione sulla base abbiamo oltre le tre velocità la modalità operativa T-Mode. Il T-Mode è proprio pensata per la viteria autoforante perché permette a TID di girare al massimo della velocità quando la punta deve fare il foro nel nostro foglio di alluminio e quando l'elettronica percepisce che il filetto sta creando il suo filetto nel foro appena fatto, TID 18 in automatico decelera al minimo dei giri e attiva gli impulsi per far sì che il nostro serraggio sia fatto in modo perfetto senza andare a strappare. Come detto può montare tutte quante, tutte e due, tutto quanto quello che è da 18 volt quindi dalle batterie compact super leggere 3,1 ampere passando per le nuovissime 4 ampere high power quindi delle batterie con le nuove celle di litio in grado di darci un rapporto peso per i nostri attrezzi mai visto prima arrivando fino a batterie invece che ci danno un'autonomia decisamente grossa 5,2 6,2 ampere ma che ovviamente sono decisamente più voluminose e decisamente più pesanti, quindi ci permette di passare da una all'altra. Avremo poi soprattutto comodo per BHC la possibilità ovviamente di andare a montare delle batterie con questo simbolo, il simbolo del bluetooth che ci permetterà di interfacciare la batteria con il nostro aspiratore se ha ovviamente il modulo bluetooth in questo modo ogni volta che avvieremo il nostro tassellatore in remoto come se fosse collegato con un cavo con il nostro aspiratore potremo andare ad aspirare la nostra operazione quindi le batterie bluetooth ci permettono di interfacciare il nostro elettro utensile con il nostro aspiratore. Quindi abbiamo visto una coppiata che sicuramente è interessante per forare e avvitare tutto quanto quello che ci può servire per andare a montare dal mobiletto alla cucina a di per sé anche altri lavori montaggio di serramenti perché comunque avremo possibilità agevolmente di andare anche ad avvitare le nostre turboviti 180 Nm sono più che mai sufficienti per tutte quante quelle operazioni di montaggio mentre invece il tassellatore con 1,8 joule per colpo sarà in grado di andare a forare tutti quanti i materiali fino al 18 passante oltre dovremo semplicemente oltre come sezione dovremo semplicemente andare a scaricare man mano il materiale. Direi che ci possiamo avviare verso l'altra postazione così passiamo a vedere altre due novità del momento la nuova TS-55 e la nuova TS-C55K Che cos'hanno di nuovo queste due macchine? Mantengono per chi già le conosce tutte quante quelle caratteristiche che hanno reso ovviamente importanti le loro le precedenti quindi abbiamo sempre la regolazione fino a 55 micrometrica con possibilità di regolazione decimale abbiamo sempre la possibilità di andare da 0 a 45 con un meno 1 e un più 2 di fuori squadra abbiamo ovviamente la possibilità di andare a lavorare aspirati senza però avere gobbe di inserimento per l'aspirazione quindi abbiamo una struttura esattamente a 90 gradi quindi quando dovremo andare a lavorare contro qualcosa non avremo alcun ingombro che costringe a lavorare storto o a distanziarsi maggiormente dall'ingombro abbiamo ovviamente sempre il controllo del numero dei giri e un sistema fast fix per il cambio della lama quindi ci basterà semplicemente tirare la leva e saremo già pronti a cambiare la lama perché andrà direttamente in autoblocco quindi mantengono tutte quante le caratteristiche che avevano le precedenti ma abbiamo per quanto riguarda TS 55 lame più sottili le nuove lame da 1,8 non più da 2,2 come montavano le precedenti quindi permettono a TS 55 di correre più veloce durante i tagli avere meno sforzo quindi ci permetterà ovviamente di avere meno picchi di richiesta quindi riusciremo a tagliare molto più agevolmente e faremo meno polvere perché ovviamente una lama più sottile ha uno sfrido inferiore quindi ci permetterà di fare meno polvere quindi sarà più facile andare a lavorare a zero polvere dove andremo ad aspirare tutto quanto quindi assottigliando le lame ci permette di avere tantissimi plus aggiuntivi le lame poi Festool sono fatte ovviamente per essere comunque resistenti quindi assottigliare la lama andare a ridurre quei quattro decimi di spessore della lama comunque ci permette di non perdere minimamente in precisione di taglio anzi in tante situazioni la andiamo ad aumentare tsc 55k oltre alle nuove lame più sottili che possiamo andare a montare quindi sempre da 1 a 8 le stesse identiche lame che monta TS 55 abbiamo il nuovo sistema kickback stop kickback stop che è un sistema pensato per la sicurezza e permetterà a TS 55 qualora io andando a lavorare dovessi trovarmi in una situazione di rischio dove la macchina salta TS 55 si va a fermare da sola è ovviamente per chi non la conoscesse un 18 più 18 volt quindi potremo andare a lavorare con una singola batteria o con due batterie in 36 volt abbiamo una capacità di taglio e una velocità una potenza proprio di operazione pari al cavo perché ha un motore pensato proprio per andare a ottimizzare al meglio le batterie mentre invece a 18 volt saremo al 50 per cento della potenza si sente già anche solo dal rumore che produce che il numero di giri aumenta la potenza proprio la coppia in grado di reggere il motore aumenta decisamente qua sopra abbiamo qua sopra abbiamo il nuovo kickback stop quando noi lavviamo la luce verde indica che il kickback stop è operativo se è gialla indica che il kickback stop è pronto per avviarsi che cosa significa significa che allora il kickback stop si basa tutto su questo tastatore qua non abbiamo più un cugno fendilenio sulla tsc ma c'è un tastatore quando la luce è gialla è legata al fatto che io magari sono fuori sto lavorando sulla mia guida e quando a fondo il mio tastatore è oltre la guida quindi è pronto fondamentalmente per avviarsi nel momento in cui inizio il taglio la luce diventa verde nel momento in cui il tastatore va a funzionare quando invece ovviamente è rossa significa che il kickback stop si è attivato vediamo di provare ad attivarlo apposta così vediamo come funziona il kickback stop come detto è pensato per non andare a ricevere dei grossi colpi indietro quando io vado a fare certi tagli adesso proverò ad attivarlo apposta vediamo se ci riesco lei normalmente io posso andare a tagliare normalmente quindi e vado a tagliare senza alcun problema quando poi ricevo dei grossi colpi non so se si riesce a vedere il kickback stop è intervenuto prima che io rischiassi di farmi male adesso io ovviamente l'ho fatto apposta però fossi stato in una posizione di lavoro dove distratto sovra pensiero la macchina mi tornava indietro ovviamente rischiavo di andare a tagliarmi il kickback stop se la macchina è correttamente regolata reagisce all'incirca in nove centimetri quindi la macchina può saltare indietro massimo di nove centimetri prima che la lama sia completamente immobilizzata quindi un ottimo sistema per lavorare in sicurezza senza andare a perdere nulla in potenza anzi come detto in precedenza le nuove lame più sottili soprattutto in una macchina batteria che quindi mi creano meno sforzo mi creano meno sfrido e mi rendono più veloce a tagliare i miei metri è un plus ulteriore perché significa che con la stessa batteria io ho più autonomia quindi meno cariche della batteria più autonomia più velocità meno sfrido anche quando vado a lavorare con il semplice sacchetto riesco comunque a lavorare fondamentalmente a zero polvere però è comunque la versione a batteria è turbo aspirata mi permette di raccogliere già buona parte della polvere rimane comunque invariata la dotazione di lame quindi cambiano semplicemente gli spessori avremo tutte quante le lame per il legno più o meno denti ovviamente per andare su pannelli lungo vena contro vena quindi abbiamo le stesse identiche dotazioni le lame rosse che sono le lame gialle quelle da legno le lame rosse per materiali plastici come il pvc e similari le lame azzurre per i metalli non ferrosi quindi alluminio fondamentalmente e sempre la lama verde per l'edilizia quindi idonea al taglio della nuova pannellatura per l'edilizia a secco direi che anche qua le principali caratteristiche delle due novità TS55 e TS-C55K le abbiamo viste ci spostiamo nell'ultima postazione per andare a vedere quella che è la novità poi di giugno perché in realtà non è ancora uscita sta per uscire ed è Power Station PST15 PST15 è una presa di corrente portatile abbiamo un Sisteiner all'interno del quale abbiamo 108 celle di litio high power che sono in grado di trattenere quindi di conservare al loro interno 1550 watt di potenza ed è in grado di erogare continuato 3680 watt è in grado di reggere un picco per 6 secondi di 7200 watt e per mezzo secondo di 11000 watt cosa significa? significa che saremo in grado di alimentare tutto non avremo più bisogno tranne che per quelle utenze veramente con gli attacchi industriali quindi utenze che consumano decisamente tanto per tutto il resto non avremo più bisogno di andare a cercare la spina di andare a cercare il quadro cantiere di andare a tirarci metri e metri e metri e metri di cavo per poter avere la nostra corrente in postazione ci basterà semplicemente ovviamente uscire la mattina con la nostra power station carica la carica la effettuiamo tramite il cavo in dotazione qui sotto c'è il collegamento tra le 3 e le 4 ore in base ovviamente alla potenza che siamo in grado di erogare all'interno di power station comunque non ci metteremo più di 4 ore nel peggiore dei casi quindi una ricarica molto molto rapida non dovremo far altro che armare aprire e armare le celle qui all'interno abbiamo la postazione per il PRCD che a breve vedremo sempre qui all'interno potremo andare a conservarci il cavo per la ricarica e abbiamo il tasto per poter armare le celle cosa significa? ovviamente tutto questo litio per poter essere trasportato in sicurezza è stato tutto quanto diviso a compartimenti questo è il tasto che ci permette di mettere in comunicazione tutte quante le celle di litio e farle cooperare per erogare la nostra corrente premiamo il tasto davanti i led lampeggeranno una volta e ci indicheranno che l'elettronica all'interno ha fatto il check nel momento in cui sono attivi ci daranno ovviamente l'attivazione della power station e più ne sono accesi ovviamente ci indicano la carica a quel punto non dovremo far altro che andare a collegare il nostro cavo portare l'aspiratore in e andare a lavorare tranquillamente il PRCD l'ho collegato all'aspiratore cosa significa? il PRCD è un salvavita power station è in grado di reggere da sola quindi di gestire da sola un cortocircuito alla volta il che significa che se il mio aspiratore fa cortocircuito power station è in grado di gestirlo se la mia in questo caso KS120 fa corto e manda in corto il mio aspiratore l'aspiratore viene gestito dalla power station ma KS120 non viene gestita da niente quindi significa che io prendo la scossa con questo dispositivo qua quando se capita che la mia KS120 fa corto stacca il termico il PRCD stacca il termico prevenendo il passaggio del corto fino alla power station comunque come detto attiviamo il tutto a quel punto siamo operativi possiamo andare tranquillamente a lavorare ci permette di andare a lavorare in autonomia in ogni situazione adesso io ovviamente per motivi per poterla mostrare l'ho appoggiata sul banco basterà semplicemente appoggiarla sul nostro aspiratore come un qualunque Sisteiner e l'aspiratore fondamentalmente sarà a batteria sarà cordless o potremo portarcela in giro su una colonna di Sisteiner dove abbiamo il Sisteiner con i nostri attrezzi magari un power hub che ci permetterà di distribuire la corrente che potremo andare a collegare alla nostra power station sul primo collegamento del power hub ovviamente mi vale come se fosse un collegamento diretto della power station su tutti gli altri devo andare poi a inserire il mio dispositivo di sicurezza in questo modo sarò in grado di distribuirmi corrente di portarmi in giro corrente dove mi serve power station mi permetterà quindi di non avere più tempi morti banalmente perché arrivo appoggio la mia power station sull'aspiratore e inizio a lavorare senza come detto all'inizio dovermi tirare cavi cercare la presa cercare l'asciuco non ho l'attacco giusto ho l'attacco sbagliato devo andare a cercare le prolunghe perché non mi bastano e quant'altro in questo modo potrò andare a lavorare comodamente attacco la mia power station e lavoro punto fatto finito queste diciamo le caratteristiche principali tecniche di power station il tutto è racchiuso in un Sisteiner di terza generazione Sisteiner che comunque è colorato di blu quindi saremo sempre in grado di riconoscerlo all'interno quando lo mettiamo nel nostro allestimento sulle colonne le pile di Sisteiner che facciamo è colorato di blu quindi lo andremo a riconoscere sempre Sisteiner che pesa 16 chili e mezzo in totale quindi non è sicuramente leggerissimo però pesa come una cassetta degli attrezzi come una cassetta dei ferri e per la potenza che è in grado di erogare quindi 3680 watt costantemente non c'è paragone come rapporto peso-potenza ovviamente power station è una soluzione che non va in accoppiata con i generatori è proprio un sistema completamente nuovo basato sul litio quindi non avremo il problema classico che ci che ci dà ovviamente un generatore il generatore ci costringe a trasportare gasolio quando accendiamo il generatore deve essere necessariamente all'aperto fa un sacco di rumore perché ovviamente c'è un motore a scoppio che lavora e a costanti crolli che man mano che lavora la nostra energia la nostra corrente erogata non è pulita qua invece è tutta quanta elettronica il motivo per la quale ha un rapporto peso-potenza così elevato quindi 16 chili per quasi 4 kilowatt di potenza erogata è proprio dato dall'elettronica le celle di litio verranno fatte accendere spegnere pulsare fino a 200 mila volte al secondo per generare corrente alternata in questo modo con questa nuovissima tecnologia che è proprio la prima è la power station è la prima è il primo attrezzo che ha questa tecnologia all'interno cosa succede non abbiamo più bisogno dell'inverter quindi abbiamo bypassato tutte quelle strutture che sono necessarie per avere corrente alternata direi che caratteristiche principali di power station le abbiamo viste qualora arrivasse un cortocircuito ovviamente il tasto che uso per armare le celle è anche il termico quindi andrà a scattare preservando l'integrità dell'elettronica e delle celle ovviamente è comunque sempre presente su tutto quello che abbiamo visto compreso power station ma TID BHC TSC 55 K e TSC 55 ma su tutto quanto il catalogo Festool il service all inclusive 36 mesi quindi avremo comunque una garanzia che ci copre completamente fondamentalmente completamente per i primi tre anni della vita del nostro attrezzo direi che bene o male le caratteristiche appunto le abbiamo viste tutte quante e... Grazie a tutti.